Sciolta per infiltrazioni mafiose l'assise comunale di Scorrano, la decisione del Consiglio dei Ministri, che ha deliberato su proposta del Ministero dell'Interno, sale così a 4 il numero dei commissariamenti disposti dal Governo in provincia di Lecce. In corso sono infatti quelli di Sogliano, Surbo e Carmiano. Il 24 giugno dello scorso anno i carabinieri della Compagnia di Maglie notificarono 27 ordinanze di custodia cautelare, di cui 17 in carcere, con le quali la Procura della Repubblica contestava a vario titolo i reati di associazione per telinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, danneggiamento, detenzione di armi e di materiale esplodente, estorsione, ricettazione, spaccio di droga, porto abusivo di armi, sequestro di persone e violenza privata. Tra gli indagati a piede libero anche il primo cittadino Guido Nicola Stefanelli per concorso esterno in associazione mafiosa. La commissione prefettizia, inviata per verificare se esistessero i presupposti per un commissariamento, ha concluso la sua relazione, inviata poi al Ministero. In questi mesi la situazione politica per effetto dell'operazione dei carabinieri, denominata Tornado, è stata alquanto burrascosa con le dimissioni della presidente del Consiglio, De Cagna, che ha poi invitato anche il sindaco a lasciare il posto. Stando all'attività d'indagine il clan avrebbe sostenuto la candidatura di Stefanegli e una volta divenuto sindaco lo avrebbero minacciato con un fucile per avere agevolazioni nelle concessioni per svolgere attività economiche sul territorio, in particolare la concessione della gestione del parco, la favorita e del servizio dei parcheggi a pagamento.